basato su eventi reali, così come riportati nel libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Grazie a tutti. Abbiamo confidato nel Signore e abbiamo perso ogni cosa! Troveremo un altro modo? Non c'è un altro modo! Che cosa proponi ora? Di tornare a casa da quell'altro? Ci uccideranno prima ancora di arrivare alla porta. Torniamo da Labano. Non possiamo deludere il nostro padre o il Signore. Sei un folle! Sei un folle! Laban! Non è un folle! Perché percuotete il vostro fratello minore? Non sapete che il Signore l'ha scelto per essere governatore su di voi e ciò a causa delle vostre iniquità. Ecco, salirete di nuovo a Gerusalemme e il Signore metterà Labano nelle vostre mani. e lui ha scelto di fronte per lui... e lui 이제 mamma? Com'è possibile che il Signore metta Labano nelle nostre mani? È un uomo potente. Può comandare a cinquanta. Sì, e può ucciderne cinquanta. Allora, perché non noi? Saliamo di nuovo a Gerusalemme. Siamo fedeli nell'obbedire ai comandamenti del Signore. Egli è più potente di tutta la terra. Allora, perché non più dilavano i Suoi cinquanta o delle Sue decine di migliaia? Saliamo dunque. Dobbiamo essere forti come Mosè. Egli parlò alle acque del Mar Rosso ed esse si divisero. E i nostri padri le attraversarono uscendo dalla schiavitù su terra asciutta. No. Non è la stessa cosa, Nefi. Lemuele, un angelo vi ha parlato. Potete dunque dubitare. Saliamo. Il Signore è in grado di liberarci, proprio come i nostri padri. Allora. 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 Grazie a tutti